Ciao ragazzi e bentornati con Metro Last Light quindi nella prima puntata ci siamo imbattuti in questo bunker che tutti quanti sembra che vogliano ora continuiamo il nostro viaggio e vedremo cosa fare ho cercato di risolvere il problema con l'audio spero che tutto si senta bene ragazzi Metro ha un problema con il 5.1 quindi qua tutti catturati ai giardini botanici il mutante della taglia di un bambino ok vediamo cosa vogliono queste persone sospetta mutazione 10 dita quante orecchie hai? io non la vedo ad altro orecchio ragazzi secondo me è un mutante diffusi se il tuo cranio ha proporzioni corrette puoi andare se il tuo cranio ha proporzioni corrette vediamo quale proporzioni è il cranio 318 mm per 302 controlliamo la tabella complimenti sei un mutante sei un mutante sono un mutante che bello questi sono bravi a fare amicizia rispondi che è meglio va no non glielo di diglielo conto fino a 3 1 3 oh mio dio andrà a finire male lo so lo so me l'avevo detto ecco bravo lui è intelligente vabbè perché loro invece non ti ammazzano se non parli ciao che tocca a me ora io parlo ho 10 dita 2 orecchie 2 spalle cranio piccolo non mi piace quindi parla o ti fico un proiettile in testa presto l'ufficiale dai rivoluzione rivoluzione tutto e siamo salvi di nuovo grazie al nostro amico qua pascal come si chiama non lo so mamma mia che brutto tieni il coltello minchia questo è un coltello ragazzi tutto spocca di sangue allora tu sei all'ordine di sparta si sono all'ordine di sparta i nostri superiori non sono in ottimi rapporti ma chi se ne frega di coi ero nel film 300 la soldataglia deve rimanere unita ok si andiamo oh ti ti smotri una serratura telecomandata una cosa è sicura la nostra ultima possibilità di uscirne vivi è colpare dietro la porta ok collaboriamo guardate che bello pulito questo posto il mutante ma certo effettivamente con questa tutina qua un pochettino la morte se la meritava eh che cos'è questa cosa guardate queste striscette che sta facendo qua il nostro amico pascal amico pascal via e ne andiamo insieme via filiamocela da qui filiamocela come si metteva il diario si così pascal vuoi fumare? no nessuno vuole fumare in questo gioco ragazzi no è un po' buio maledizione ok siamo noi qua hai cambiato idea sul fumo? no allora la tor- la torcia come si mette qua? non abbiamo ma io non ho niente almeno corre ora sono disarmatissimo ragazzi guardate che bel posto mi piace il decoratore di interni che ha fatto questo bellissimo lavoro di persone impiccate per dare un tono all'ambiente con una piccola fossa comune qua sulla sinistra andiamo eh andiamo sono nell'ombra ciao ombra come va? siamo amicici ok ce l'abbiamo fatta tac 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 che caspita è tac 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 è la stessa cosa che guido una macchina immaginaria e faccio brum 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 come cazzo parla questo? no ok dopo che siamo arrivati qua nell'ombra non lo so faccio fai brum brum magari facciamo un aeroplano o fla 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 un elicottero ce l'andiamo via cosa ti do tirare su? allora vediamo qua il diario che dice il diario dice fuga fuggi dal territorio dell'impero segui Pavel ed evita di essere scoperto siamo di fretta tirami su com'è che ti tiro su? vai il nostro killer Pavel non ci potrei dare una mano così salivano pure noi facciamoci i cazzi nostri guardate qua che bello quest'uomo quest'altro uomo ma perché lui aveva bisogno di stare tirato su e io no? shhh tac 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 questo fingi di essere un topolino scendi e non fare mosse improvvise muoviamoci con attenzione squit 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 un topolino muoviti mi sono mosso tac tac squit squit andiamoci non ci veda nessuno minchia qua è tutto buio cioè io vedo un nero il Kaiser è infallibile questa è cosa del Kaiser andiamo ok tu occupati di quello di destra io penso all'altro io distraggo il mio poi tu elimini il tuo Verstel forza non cominciare troppo presto eh andiamo ok no non ho fatto nessun rumore io niente silenzio vediamo mamma mia ragazzi con la equazza subito ci liberiamo tutti c'è una l'avevo capito e c'è una leva però non volevo farmi guardare qua con la luce con i problemi sbloccata la scala che non si vede vi giuro ragazzi grazie pure a voi siete troppo gentili e questi ah ma li mettono comodi in celle larghe dove è la lampadina da svitare qua eh chiaro ora che devo fare e lui sta avanzando e ora toglie tutta l'elettricità e io che devo fare devo arrivare dietro a quello ok ciao ma non li posso ripetere e infatti ehi giovanotto vedo che non sei qui per passeggiare dov'è il pannello qua sopra oh ok cosa è che devo fare qua devo entrare qua dentro in questo qua non ci voglio andare fra i funghi radioattivi questo si rompe sono è in marcia questa cosa va bene senti sono pronta a dividerli sono troppo per una sola persona vediamo ma non dirlo all'Obershaw Führer no io lo diciamo all'Obershaw Führer andiamo avanti striscia mamma mia che lento a strisciare effettivamente non mi sembra un posto pro bello in cui vivere oh un bel morto ci mancava ancora ah lo savano erano le freccette sono della metro avete pensato che non andate a giocare le freccette al pub questo ancora c'è i pugnali i pugnali la lancio i pugnali la lancio fatemi riprendere ah non li posso riprendere in automatico è per usarli non c'è coltelli premendo C ok andiamoci a riprendere il nostro coltello ok qua abbiamo nuovo appunto ho trovato un nuovo appunto tab appunto i giardini botani sono sempre stati deserti e letali i stalker li evitano anche prima ma va bene questo non c'è frega niente è un nuovo appunto eh stiamo qua vediamo se ce la facciamo mi metto C per i coltelli la lancia ok funzionano ragazzi lanciano abbastanza qua c'è niente nascosto sì un altro coltello lo lancio che gli è caduto l'hanno tirato male andiamo abbiamo questi rumorini qua meravigliosi e pensavo che noi ce la passassimo male grazie è un compo non li facciamo gasare va abbiamo aperto tutte le celle ma un po' più lento questo ah li abbiamo lasciati li abbiamo lasciati così come erano ok luce entra quando è blu sono sono visibile eh prendi il percorso inferiore ok non sono visibile ok ragazzi dobbiamo giocarcela un pochettino stelt qua abbiamo capito oh ah bravo il bimbo ci ha liberato il nostro amico di tutte le cose un istante che metto qua il pannello ragazzi e proviamo a registrazione perché sennò finire che registro sempre troppo a lungo eh e abbiamo lottato questo tizio però sì ne possiamo salire anche là il nostro alleato potremmo noi fare qui sono visibile per ora andiamo da qua ragazzi cerchiamo di fargliela pagare per le loro colpe ok abbiamo deciso tutti e due nello stesso momento di sparare a questo tizio ah abbiamo qua tanto la torcia che la possiamo fare sempre la possiamo ricaricare che era una vita che non la ricaricavamo ok no che allarme ok niente più allarme ok abbiamo fatto un'azione pulita potevo non farmi sgamare ma saltiamo giù prendiamo qua tutte queste belle armette però questa ragazzi questa pistola mi piace di più no non ti aiuto vuoi esplorare mamma mia che rottura di cazzo per questo devo andare a luttare gli altri prendiamo pure questa arma è la stessa arma sempre ah ho tre delle stesse armi ma che boiate è questa ragazzi posso prendere semplicemente le le munizioni ok caratteristiche andiamo qua premere eh fatto dai levetta non ci romperai le palle mi sembra più tattico del di metro 2033 allora si continua qua veloci noi siamo mortali io sono invisibile perché ho la luce che lo ricordiamo è arancione quando sono invisibile e blu quando sono visibile se la mia fuga dalla prigione imperialista avesse un titolo sarebbe il nemico del mio nemico è mio amico mer mai sentito era a capo di un drappello di ricognizione rosso spazzato via dagli imperialisti i comunisti non mi sono mai piaciuti ma era simpaticissimo Pavel ci ha salvato il culo ok andiamo allora come stai Ciovac tutto bene? Ciovac ci credo che ti hanno fatto ranger perché non mi fa accendere? ok qua c'è un appunto qualcosa a raccogliere l'ho appunto trovato qua c'è un buio totale la torcia non ce la fa accendere ok io non capisco perché non ci faccio accendere la torcia ogni volta che vogliamo che minchia sono zombie su 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 si minchia quanti sono per cento anni su 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 ma il di 6 è stato preso e occupato da spazio la corroddanza e gli avidi rossi mostrano le vera guardate quanti sono cosa vuoi c'è stata un'evasione due ma che diavolo scappate e che cosa ci fai qui allora vai a prenderli andiamo torria doveva sparare perché è dovuto sparare sono morto ragazzi così non si è capito un cazzo ma perché ha sparato sto coglione è un pirla ma che minchia sei in mezzo a mille persone e spari così palma non poteva andare di lato discretamente sto sto minchione scappiamo ora vabbè abbiamo capito prendetele i vidi prendetele i vidi non sparate ho perso non sono saltato ho sbagliato corri sto strisciando qua dentro non ci rompere tre quarti di palle minchia è rambo mamma mi piace molto di più questo stronzo che ha sparato in mezzo no e lo sai perché sto male perché un coglione ha sparato in una stanza con 50 soldati minchia un predator è questo qua un esercito sta mettendo in ginocchio fammi raccogliere sta arma aspetta Artyom Artyom aspetta un altro ma io se te me ne vado vabbiala in culo aspetta tre quarti di palle stanno chiudendo il cancetto eh e direi mi vedo eccoli pezzati fermateli ok filiamocela ma che grandissima pirla siamo riusciti a fare l'impossibile che è l'impossibile ce ne saremmo andati camminando come signori se non avessi sparato sono stronti ragazzi in metro 2033 io non sono mai morto sono morto una volta qua mi hanno ammazzato come l'ultimo dei pirla prima la stazione più vicina e poi polis il quartier generale dell'ordine ok proviamoci eh è un fine stratega questo questo tizio proprio stealth ma perché mi caccia uvac ma piglia l'angulac eh col culo che abbiamo è qua su sta lambretta ah è chiaro Freddy e lui mette le mani eh per abbandonare il vagone eh questo ma chissà come mai ma come parla sto pirla ok non credo di aver mai visto questa galleria sulla mappa siamo ancora nel territorio dell'impero però fa attenzione ok facciamo attenzione allora beh io non capisco sta cazzo di torcia ok facciamo una cosa facciamo un tantino ma via la nel sederino ok ora funziona torcia ragazzi dà dei problemi ma sempre cosa cazzo rispinta e poi salgo da solo bene ok aspetta qui mentre do un'occhiata in giro va bene gli hanno da finire un vero ninja portiamo e se questo trozzo non fosse da solo attenzione secondo posto di guardia controllate la vostra parte di galleria ci abbiamo catturato un ratto fate attenzione potrebbero essercene altri ok 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 cosa devo trovare fuga prova a metterti in salvo evita di far scattare l'allarme trova un modo per arrivare che gran casino un ratto comunista nelle nostre gallerie non è lui che mi prende chi va l'anno la tua morte quanti colpi ho buttato come un pirla proprio andiamo che cazzo di arma ha questo cambiamola sostituiamola con uno dei nostri tre mitra cazzo è un un fucile pistola pompa non andiamo con questa qua dai questo si sta spostando ok dobbiamo ritornare sull'arancione non dobbiamo stare eh si lo so no mi possono notare chi lo sa io sono qua dietro non mi muovo ok ha finito le armi e muori ok ragazzi siamo nella merda eh l'ho capito ok wow bravo avevo detto che eri a secco m com'è il medikit boh mi sa che non ne ho ok ragazzi sono vivo miracolosamente ricarichiamo e cerchiamo di luttare mamma si la situazione è bellissima sto tranquillo passo non ce ne frega niente di questa che è un'arma è uguale a quella che abbiamo noi accendiamo sta flashlight allora si continua velocemente ragazzi qua non c'è nessun loot potevo giocarmela meglio però queste sono persone cattive dovevano morire sono stati malvaggi con me vediamo che c'è qua ancora qua questa oh una mitraglietta strana che è ok ora abbiamo pure questa che non è silenziata ma ha un va bene non so che che mi piace ok luttiamo questo cadaveruccio ecco ha luttato pure no abbiamo i colpi presi ok e ora andiamo a prendere fuori aveva ammazzato qualcuno prendiamo solamente i nostri bei perché perché circondate andate uccidete non mi piace ok 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 è headshot e noi continuiamo il nostro viaggio mentre cercano di ucciderci a tutti i costi c'è nessuno qua no no ok si va guardate che bellino sto posto però noi al momento oh mio dio perché si inceppa sta flashlight ok ricarica apri mi arrendo capito ti arrendi mi arrendo ti arrendo bravo ottima scelta però se io mi giro qua tu mi ammazzi vi per uccidere l'avversario e per stordirlo ragazzi stordiamolo si è arreso mi sembra una cosa corretta ora vediamo qua se c'è qualcun altro che non si arrende qua abbiamo raccolto un altro qua c'è luce tanto si continua oh oh qua non c'è niente qua non c'è niente scusate il controllo ma in metro c'erano sempre i proiettili nascosti mi sa che questo qua questa nuova ma perché minchia è partita in automatico per entrare in questa cosa che mi ha fatto spaventare ah che belli ci sono pure i ragnetti io amo questi ragnetti e gli spuntoni di lato perché non era abbastanza accogliente questo posto ok ragazzi per oggi è tutto ci vediamo al prossimo episodio ricordate di dare un mi piace se volete vedere altri episodi grazie grazie e fatemi sapere come ho dato l'audio perché insomma ho disabilitato il 5.1 con cui metro ha sempre avuto problemi sin da metro 2033 fatemi sapere se si è andato tutto bene e datemi consigli fatemi ditemi se volete che ho giochi più stealth oppure un pochettino più a massacro anche se non è facile in questo gioco perché non ci sono tanti proiettili grazie e alla prossima grazie